buongiorno a tutti un altro pochie pacco arrivato da vinted vediamo cosa ci ha mandato questo ragazzo qui ci sono degli omaggi li guardiamo dopo pluriball questo è stato impacchettato bene ma c'erano alcuni che erano impacchettati nella carta da cucina queste saranno sicuramente comuni e non comuni ci sono delle sleeve queste li guardiamo dopo e ci guardiamo questi pezzi saranno sicuramente della serie scarlatto e violetto relor brambly snover vesti queen combi tropius exitcutor bart3 venonat tangela pg8 pj porygon radicate rapidash dragonair allora megaball cura totale beat char cadet fuecoco macuita snizzle pesmian larvitar kilovolter pomi pink urchin voltorb magnemite waxwell exiu azumarill azumarill magic up eracross pineco opip flamigo fletching cherubi diglett nidorina koffing nidorino zubat magnemite magneton elettro buzz graveler biglet onyx exter snizzle spiritum grimer buizel biduf auluccia magica psydra omanite osea delenne cacuna pachirisu luxio schinx elettro buzz ok queste erano tutte comuni e non comuni andiamo a guardare quelle nelle sleeve saranno sicuramente reverse elettro buzz caterpie lapras ok vediamo gli omaggi scherzi facciamo nata sleeve vile plume bidril squirtle psyduck clefairie jigglypuff slowpoke pulbasaur porygon paumi skidu andiamo fletching di galar e andiamo con miltang reverse al prossimo spacchettamento di vinted alla prossimo alla prossima alla prossima Grazie a tutti.